Salve ragazzi, allora, eccoci tornati con il secondo episodio di questa correzione del libro 101 motivi per odiare l'interattivare il Milan, ripetiamo, ecco qui il libro, forza Milan sempre, e adesso andiamo a vedere il motivo numero 32, perché abbiamo motivi di seguito, cancellai quello, allora il motivo originale, leggiamolo qui, era, dov'era aspetta, 32, perché loro sono ancora fermi a Sarti, Burnic e Facchetti, ora sono campioni, quindi non si può dire questo, però vincevano quest'anno probabilmente la seconda stella, ma tutti diranno, vincevano la seconda stella, ma allora hanno più trofei nostri, hanno meno trofei del Milan in generale, e allora dico perché vuoi fare questa cosa, perché ti critichi così tanto che hanno la seconda stella prima di te, non è successo in fondo anche in passato, è vero, l'Inter prese la seconda stella prima del Milan, sembra strano, il Milan ha sempre avuto più trofei dell'Inter, e allora come mai, direte, come mai il Milan ha conquistato la stella dopo l'Inter? Nel 1979 l'oro nel 1962, tipo, c'è capito, è già molto prima di noi, quasi a più di dieci anni prima di noi, e allora perché? Perché io dico che, insomma, la seconda stella dice Rossi Ghi tanto, che la conquistano prima del Milan, è già successo, tanto il Milan ha avuto un sacco di record più dell'Inter, un po' in campionato, ma pure loro all'epoca che erano campionati corretti, il Milan vinceva le coppe dei campioni, vinceva anche loro, però l'hanno vinta grazie a quell'anfetamine di cui parleremo in un altro video, il Milan la vinte sul campo onestamente, aveva anche le coppe Italia, le coppe delle coppe, aveva tanti più trofei rispetto ai neri azzurri, quindi c'è, alla fin fine il Milan ha sempre avuto più tipologie di trofei rispetto all'Inter, quindi non ho motivi di vergognarmi, però perché l'ho potuto citare con la seconda stella? Il titolo, perché il loro ciclo più vincente nasce dalla carta e dal cartone, direi ancora con sta storia, eh sì belli miei, perché voi arrivate alla seconda stella grazie ai scudetti che avete vinto nel 2006, grazie alla carta e il cartone, non sono una seconda stella meritata davvero, non avete vinto sul campo, la vostra bacheco oramai, tra quei la Coppa Italia è macchiato per sempre, però andiamo, non tutti i trofei lo sono, andiamo a vederli con calma. Ecco qua, lo metti in modo che, allora, perché l'oro ciclo vincente, più vincente nasce dalla carta e dal cartone. L'Inter del triplete è qualcosa di unico per gli interisti, letteralmente parlando, proprio perché per fortuna, finora, non ce ne sono state più di Inter, così, a parte quella campione d'Italia nel 2020-2021, che, continuo a leggere, che però non è così grande, a parte lo scudetto, perché è vero, cioè, a parte lo scudetto non è che hanno vinto chissà quali trofei internazionali. Comunque, ma partiamo dall'inizio di questa magnifica storia, l'Inter del triplete, dicevo, partiamo dall'inizio. Siamo nell'agosto del 2006, Moratti e company festeggiano lo scudetto numero 14, conquistato in tribunale. Sì, mi avete sentito, amici milanisti e non, in tribunale. Per chi non lo sapesse ancora, giusto per leggere le nazioni più giovani, lo scudetto del 2006, che loro etichettano come un successo, è in realtà il risultato di un processo giuridico al quale sono sfuggiti grazie alla prescrizione nel 2011, in quanto uscirono fuori intercettazioni degli arabeti da parte di Jacinto Facchetti, loro presidente, fino alla sua prematura scomparsa nel 2006. E sulla sua scomparsa parleremo più in un altro motivo. Comunque, e la cosa peggiore per noi, non di certo per loro, è che da qui la loro bacheca si è rimpolpata parecchio, ma ricordiamo che tutto questo è avvenuto solo grazie a questa orribile vigliaccata, e non per maniti sportivi. Vigliaccata in che senso? Nel senso che è facile vincere con le alte penalizzate, facile vincere con chi, a parte da meno punti, col mercato che lo fanno solo loro. Trova che adesso, lo scudetto di quest'anno, sembra quasi leale, cioè i giocatori del Milan e del Napoli in Coppa d'Africa, loro nessun infortunato e nessuna competizione, quindi sono ancora più avvantaggiati, coperta lunga e tutto. Cioè, Milan come vuoi che gli tenga testa? È l'unica che finora dimostrano di tenergli testa, perché l'Atalanta sì, stava vincendo, appareggiato con loro, stava quasi vincendo con l'Inter, però, insomma, era una Inter ancora in fase costruttiva, invece l'Atalanta ora, cioè adesso, comunque è sui livelli buoni, ma non gli terrebbe a testa questa Inter. Il Napoli l'abbiamo visto che per poco, però anche loro, solo il Milan è riuscito a pareggiare finora, aveva quasi tutti i pezzi. Si è visto a pari meito, insomma, che Inter e Milan sono alla pari, anzi, Milan ha giocato anche un po' meglio il derby di ritorno, capito? Quindi, questo è lo scudetto di quest'anno, se qualcuno crede che sia di cartone, voi pensate che questi scudetti qua siano di cartone, questo qua di quest'anno? Nulla si è paragonato allo scudetto del 2006, e anche dopo, questo è di carta, quello è perché il tribunale sulla carta te l'hanno consegnato, di cartone, gli scudetti, quelli là che sono stati messi, cioè che sono stati vinti nel 2007 e nel 2008, andiamo a vedere. Allora, in realtà non tutte le stagioni successive furono sleali, diciamo, infatti qua, prima di questo ho sbagliato, prima di questo ho scritto, per me di sportivi, non per me di sportivi, ma se sono fatti avvenuti nel 2006, perché il resto delle stagioni non le consideri leali, mi direbbero gli interisti. In realtà non tutte le stagioni furono sleali. Aspetta, scusate, purtroppo qua le pagine, eh? Allora, ve lo dico subito perché, nella stagione 2006-2007, con il Milan penalizzato di ben 30 punti, la Juve in B, la Roma e altre squadre penalizzate quasi quanto noi, è piuttosto semplice vincere scudetti e altro. Noi per fortuna in quella stagione vincemo la Champions League e diventiamo il club più titolato al mondo. Beh, i ricordi. Allora, e la stagione successiva 2007-2008 fu la replica della precedente per gli aiuti arbitrali e vittorie all'ultimo minuto. Aiuti arbitrali perché gli interisti in quella stagione, oltre ad essere gli unici che dominavano, avevano anche molti rigori a favore. Tanto è vero che sul web uscirono molte canzoni parodie dell'oro inno, tra cui una di queste, scusatemi, venemi prude, una di queste diceva odiala, ladra intero, odiala, un rigore a partita, favori a volontà, ladra intero, odiala. Fatemi sapere se vi piace come canto. Volevo realizzare una canzone, la scelta di Caparezza che fa nella parodia, però, insomma, me lo dite poi nei commenti magari. Allora, nulla di grave risperdo, diciamolo quindi. Dicevamo appunto, per evitare l'ultimo minuto, dal 2009 al 2010 le vittorie furono leali, non si può negarlo. Ma ciò non toglie che tutto questo nacque da un'ingiustizia sportiva non da poco, nato dalla carta 2006 e dal cartone 2007-2008. Poi nell'anno del T-Plete ci fu qualche svista arbitrale in Champions League, ma nulla di grave, nulla di grave, rispetto alle annate precedenti in campionato. Il vero riassunto nella storia dell'Inter. Dall'aiutino nasce una squadra che vince da sola. C'è sempre l'aiutino di mezzo, però. Quest'anno la squadra vincente è nata. Tu dici, è nata dall'anno scorso, non puoi dire altro. Infatti, è nata dall'anno scorso, non c'è nulla di sleale in questo, ma gli altri scudetti rendono la seconda stella non meritata. Capito? È questo che voglio dire. Tutti, chi mi dà torto quando glielo dico è perché non conosce la storia. Un mio amico, non faccio nomi, disse, eh, però tu stai solo rosicando. Io gli feci vedere la cosa del 2006-2007. Lui cambiò idea quel giorno stesso, disse, eh, però così come fai a competere con una squadra? Esatto! È quello che io sto dicendo dei loro scudetti. Io non parlo dello scudetto di quest'anno o dell'anno scorso che è super meritato. Io parlo dello scudetti del 2006-2008. Due scudetti che sono illegali. I loro veri scudetti con questa vittoria sarebbero 18 attualmente, non sarebbero 20. Perché se li togliamo, loro da 18 scendevano a 16, vincevano il 17esimo e quest'anno ci avrebbero raggiunto. Ma noi abbiamo vinto sempre in campo il campionato. Comunque, andiamo allora avanti. Al Milan queste cose non sono mai successe. Anzi, ci beccammo, annaccia queste consonanti, ci beccammo varie squalifiche per illeciti sportivi, tra cui la Serie B per calcio scommesse nel 1980. Nel 1991 fummo squalificati contro il Marsiglia. Nel 1993 San Siro venne squalificato. Non mi ricordo un motivo, infatti non l'ho scritto. O era forse Marsiglia 93 e magari San Siro era qualche anno prima, non mi ricordo. Comunque in ogni caso erano queste. Il 2006, già citato, fummo penalizzati di 30 punti per calcio scommesse. E attualmente addirittura la squalifica per la stagione 2019-2020 dall'Europa League per violazione del fair play finanziario. Grande buffonata da parte della UEFA. In che senso? Nel senso che il Milan penalizzato per queste cose e Manchester City e gli altri che hanno falsificato i bilanci. Multa. Eravano stati esclusi e poi pagarono una multa e furono riammessi. Che pagiacciata! Il Milan la ritirò e accettò la squalifica. Il Milan ha giocato lealmente alla fine in questo ambice dal punto di vista diciamo legale. Ecco, abbiamo fatto i nostri scandali ma poi ne siamo usciti. Dopo puniti ma poi rinati. Abbiamo vinto di nuovo. Ecco il bello del Milan. Viene punito ma poi dopo ritorna in alto. Come abbiamo fatto pure ora. Non vincendo nulla ma comunque almeno in Champions ci siamo tornati. E questa squadra ha un gran futuro davanti a sé. Insomma, a noi sempre tutto difficile e complicato. A loro mai nulla. E le poche volte che gli è successo o erano in uno stato di forma eccezionale le poche volte che hanno giocato bene. Chiedete a Herrera o meglio a Ferruccio Mazzola. L'ho scritto anche per lui. Anche il motivo riguardante lui. Visto che il fratello Sandro... Aspetta qua. Che il fratello Sandro non parlerebbe. Oppure quindi o perché erano in forma ottima hanno giocato diciamo benino ma non bene alla fine perché l'Inter non gioca quasi mai bene nelle sue vittorie. Oppure sempre aiutati da qualcuno qualcosa. E poi dicono di essere arriva a scuola di Milano. Patetico. Semplicemente patetico. E finisce qua il motivo che ho scritto. Allora. Quindi a noi tutto difficile. A loro mai nulla le poche volte che è successo che erano cose difficili o erano in uno stato di forma molto molto alto. Quindi hanno giocato o bene o male. Non c'entra. Comunque erano in un ottimo stato. Ma alcune volte chiedete a Lenio Herrera. È capiato per delle cose che leggeremo va bene un altro motivo. Oppure sono sempre aiutati da qualcosa. Da qualcosina. Direte adesso non vale più. Sì ma la loro bacheca è compromessa per sempre. Per quello che hanno fatto. E poi anche attualmente. Ora sono le ali in campionato. Ma non è che gli anni passati li avessero proprio trattati con le fruste. Ah e quest'anno una delle partite Sassuolo-Inter. Loro ci accusano di Roma-Milan di aver imbrogliato. Dopo aver vinto o dominato la partita. Sassuolo-Inter. Non solo non hanno dominato. Ma Sassuolo li ha messi bene in difficoltà. Ma nel finale c'è un rigore per il Sassuolo. Quindi cari interisti. Non accusate il Milan con la Roma dopo che ci hanno buttato fuori Teo Hernandez ingiustamente. Perché prima c'era il fallo di Pellegrini su Krunic. Ma pensate a voi al vostro orticello del cavolo. Voglio essere educato con voi. Ok? Bene. Sempre forza Milan. Al prossimo motivo. iegittivo. Grazie a tutti.